buongiorno oggi faremo il tiramisù un dolce che faccio abbastanza spesso ed è il mio cavallo di battaglia per farlo avremo bisogno di 4 uova 50 grammi di zucchero mezzo chilo di mascarpone io uso i biscotti ma si possono usare i savoiardi o i pavesini per chi desidera 6 tazzine di caffè io gli faccio una piccola aggiunta di amaretto circa 20 grammi e il cacao amaro per avere poi la spolverata a fine preparazione adesso iniziamo con la procedura di sgusciare le uova e dividere gli albumi dai tuorli no 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 Grazie. 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 Adesso mettiamo in frigo e aspettiamo fino a domani almeno 12 ore perché si assesti il tirani su.